Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi volevo solo informare che ho un secondo account. Il mio primo account, adesso vi faccio vedere. Anzitutto dovete scrivervi, a cui dovete scrivervi. Questo è esatto. Questo diventa una delle sue suizie. Quando compare dovete cliccare il tasto iscriviti e attivare la campanella. Fatto questo dovete tornare indietro. Se non volete scrivervi il blog già di scrivervi ogni altro, secondo il nuovo account di YouTube, che sarebbe questo. Adesso MTB. Ragazzi, è nuovo, quindi comunque l'ho trovato come fine. Questo è il mio primo video di un'ora fa. Ragazzi, non cazzo, era sulla presentazione, però adesso ricomparirà qui. E su Instagram e anche sull'altro posto. Quindi ragazzi, vedo che lo vediate tutti. Spero. E niente, venite di tutto a scrivere, per ora ho già altri iscritti con un solo video, mio cazzo. Comunque, grazie mille, ragazzi, un po' di rosi, che mi fate un grande piacere. Bella.